Allora, benvenuti ragazzi, oggi il video che porterò sul canale è sicuramente un gioco di guida. E' troppo stretta la strada, per caracca. Guarda, quando è difficile scazzare. Siamo eliminati. Nooo, a me non ho avuto una cavata. E chi è che mi ha divinato? Non ho visto mai, ragazzi. Una porca madre del demonio morto. Cosa? Una percibita. E' venuta a sentar una cara schifosa. E' venuta a sentar. Un problema. Grazie a tutti. No, 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 che qua già non ci hanno eliminato qui. La stessa stessa è stretta, qua mi regala, vabbè. No, se ne va blocco qua, se ne va blocco. No, 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 no. No, 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 no. Sì, primo posto ragazzi, vai! Ho partito pure a questa qua da due anni, non lo so chi è però, ce l'aveva bene la macchina, è una stia lì, in gara! Non mi raccambio la macchina, prendo questa! Sì, adesso lasciamo bella figura pure qua! Ahah! no sono rimasti in 10 ragazzi, alcuni si sono eliminati e sono molto contento ma l'importante è che sono rimasti in transito, almeno pure che non mi eliminasco, però e voi ragazzi, è trottile, ti raccontate dalla tua prestazione che fai a fine me il video con, questa è l'ultima gara e devo cercare di arrivare sui mini ah no, non l'avevo visto qua, quando è stretta questa, mamma mia, questa pista è la più brutta ma che cavolo, sono più annanati di me questi qua, porca vacca sono più brutta notte vai, vai, sono passato a questo e no, ragazzi, non potete eliminarlo però, vediamo con la prima ma qua stanno, ragazzi, stanno... stanno gli attestati che sono già allenati qua vabbè ragazzi, ragazzi, comunque, una volta che io posso arrivare, vabbè, accontentiamoci di questo ma, eh, ragazzi, ma... gli avversari erano troppo... cioè, ragazzi erano troppo... esperti, diciamo più, cioè, i livelli... erano più forti di me, dai, lo devo ammettere, dai vabbè, ragazzi se vi vedete tutti i video, mettetevi via sotto... nei commenti iscrivetevi al mio canale, non vi siete ancora iscritti data io lo provvederò sempre nei video se sono bene, non ti prende niente quando vi iscrivete al canale quindi, potete... benissimo andare sul mio canale e... e... evitamente iscrivete, ragazzi e... guardate la promucia, camerelline, per chiedere le prossime... cioè, i prossimi... le notifiche... dei prossimi... i miei nuovi video che porterò sul mio canale prossimamente cioè, la prossima volta va bene ci vediamo al prossimo video come sempre